No ma io non voglio commentare i fatti dell'Inter e dell'Iventus, per quanto si riguarda nel derby con l'Inter siamo stati certamente sfavoriti, noi non ho sentito la mentele, perché noi nel derby con l'Inter c'è stato annullato un gol regolare e non c'è stato dato un rigore, penso solo al Milan. Ma adesso io non voglio fare il professore, io sono come tutti né meglio né peggio degli altri, dico che noi l'anno scorso abbiamo avuto il più eclatante errore arbitrale, abbiamo fatto un po' di casino ma non più di tanto e ripeto che nel derby la squadra danneggiata è stata al Milan quest'anno. Quindi è fisiologico, sì, io credo che sia fisiologico e quindi credo che, voglio dire, ognuno di noi si lamenta quando ha dei danni ma non si lamenta mai quando ha dei vantaggi, io compreso e io per primo.